8 frame per secondo, 45 punti di messa a poco, un rallying shutter risolto 57 millisecondi. Pensate che stiamo parlando di una macchina fotografica moderna, l'ultima Canon appena uscita magari? E invece no, parliamo della Canon 1D, ovvero la prima Canon digitale realizzata appunto dal brand nipponico. Salve a tutti e bentornati sull'Italian Maker. Allora, pronti a scoprire insieme a noi questa vecchiettina da più di 20 anni che rappresenta un po' la storia del digitale di Canon? Se siete interessati, guardate questo video, ma prima vi chiediamo di iscrivervi al canale e mettere un like per sopportarci e continuare a produrre questo genere di video. Buona visione! Questa Canon infatti compie quasi 21 anni. È stata presentata a dicembre del 2001 ed era appunto la prima reflex professionale di Canon con un sensore digitale, abbandonando quindi quello che fino a prima era soltanto a pellicola della Canon EOS 1V. Questa macchina monta un sensore un po' diverso dagli altri perché infatti monta un sensore CCD e non CMOS, dopo spiegheremo un po' le differenze, da 4 megapixel. Possono sembrare pochissimi, abituati ormai numeri da capogiro che vediamo sulle reflex tradizionali moderne o sulle mirrorless, ma per questa tecnologia che ha, ovvero il CCD, l'incisione è veramente alta e ha una qualità del file incredibile. Vediamo un po' appunto come si comporta. Allora, come detto, ha un otturatore che può arrivare a un 16.000 millesimo, un valore incredibile che nessuna reflex tradizionale con un otturatore meccanico riesce ad ottenere. Giusto con gli otturatori elettronici oggi si arriva a queste velocità. Questo permette di scattare anche a F1.4 senza bisogno di filtri a 1D in pieno giorno. Come detto, 45 punti di messa a fuoco. Adesso ci sembra un valore normale, ma pensiamo che era il 2001. Le reflex concorrenti avevano 2-3 punti di messa a fuoco, questa 45 e con appunto un tempo di risposta di 57 millisecondi, ovvero il tempo tra cui noi mettiamo il dito sul pulsante, la macchina calcola l'esposizione, calcola il bilanciamento del bianco, mette a fuoco e scatta 57 millisecondi. Giusto per dare un confronto, una Canon 5D Mark III del 2011-12, che ci mette 220. Quindi niente male. Raffica da 8 frame per secondo e andiamo a sentirla. Tanta roba per essere appunto così anziana e soprattutto riusciva a gestire, nonostante i processori dell'epoca, nonostante le schede di memoria dell'epoca, che riportiamo essere una Compact Flash da massimo 2 GB, di più non riesce a gestirli e ci fa riviere anche questo, riusciva a fare una raffica da 16 RAW o 21 JPEG. Quindi niente male mantenendo il fuoco continuo. Alcune caratteristiche di questa macchina che la rendono un po' unica è appunto il suo sensore CCD, il suo rapporto di crop APS-H, quindi una via di mezzo tra un full frame e un APS-C. È un fattore da 1.3. Altre chicche che ha, chiaramente la batteria di tipo NE3, estraibile, gigante, però per via di questa tecnologia del sensore, e gli anni che ha, ha poca autonomia. Il sensore CCD consuma veramente tanta corrente. Lo schermo posteriore è un 2 pollici con risoluzione 320x240. Niente, infatti veder le immagini qua fa abbastanza schifo, si capisce poco. I menu sono molto complicati, lo spostamento tra i menu è macchinoso e difficile, però insomma era la prima digitale, e quindi comunque diamogliene atto. Doppia impugnatura, chiaramente, col pulsante di scatto riportato anche sul grip verticale, molto figo. Altre piccole accortezze che si sono perse negli anni, probabilmente per ridurre i costi. Questa qui appena uscita era veramente cara, soltanto l'iperprofessionista poteva permettersela. Vedete questo pallino bianco? È un esposimetro per il bilanciamento del bianco esterno. Questo permette anche nel caso avessimo filtri colorati e montati davanti alla lente, di prendere il bilanciamento del bianco e l'esposizione ambiente e non della lente, anche se appunto con degli ND o con dei polarizzatori andava a sfalsare quello che potrebbe essere il bilanciamento del bianco, invece qui era esterno. Non ha la ghiera delle modalità, ma ha dei pulsanti che vanno cliccati con combinazioni varie per cambiare le funzioni, ma è carino. Qui c'è pure un chiudioculare in caso si volessero fare le lunghe esposizioni. Anche questo è una chicca meccanica interessante. L'otturatore come ho detto arriva a un 16.000 millesimo, quindi vuol dire che meccanicamente è molto robusta, è tropicalizzata, che per gli anni non era così scontato, ora è veramente ancora molto solida, nonostante vent'anni è molto robusta. E al Synco Flash ha un 500 millesimo, pure questa novità assoluta. Anche le attuali 5D Mark IV o EOS R5 o RP hanno il Synco Flash al 250, pochissimi arrivano così veloci. Un'altra chicca nostalgica è la porta di connessione. Adesso purtroppo le plastiche sono cotte, si rompono, ma è una Firewire, quindi la 13394, perché ai tempi quando è uscita questa macchina non esisteva l'USB di tipo 2, ma è stato l'USB 1 ed era troppo lento per spostare l'incredibile peso del file RAW da 4 megapixel da 4 mega. La cosa bella è che i RAW sono in formato TIFF e non CR2, quindi leggibili da qualunque programma, molto più semplici da gestire, più leggeri, insomma è un bel formato. Abbiamo anche un piccolo schermino qua sotto, ormai abitudine delle 1D, che però appunto ci permette di avere accesso alle funzioni principali, quali qualità di scatto, scatti rimanenti eccetera, senza dover utilizzare lo schermo principale, quindi consumare un po' meno energia, visto che ha un'autonomia di circa 200 scatti rispetto alle moderne 1D che arrivano a 6-7000 chiaramente è svantaggioso. Però questo sensore CCD adesso andiamo un po' in giro per Milano a fare qualche scatto e vediamo perché è così diverso e cosa cambia rispetto a un CMOS. iscriviti al nostro canale. pensate a quanto era curata nonostante fosse appunto il 2001, due modalità di accensione spenta, on ma senza i beep della messa a fuoco o del menu, o accesa coi suoni, c'era la modalità silenziosa nel 2001. passiamo però anche un po' ai difetti di questa macchina perché finora l'abbiamo osannata e uno dice allora per cosa compro a fare una macchina moderna e non una che ha 20 anni. Allora il CCD come abbiamo detto ha dei limiti, consuma più batteria, ma ha anche grossi limiti in termine di tenuta ISO, infatti finché le condizioni sono queste, che si può usare il suo base di 200 ISO, non al 100, si comporta molto bene. la sensibilità massima parla di 1600 ISO ma già sopra i 640 il file è parecchio rumoroso, 800 è al limite dell'utilizzabile, a meno che si schiatta in bianco e nero in quel caso è più contenibile la cosa, però di base appunto non è adatta a scatti in condizione di poca luce. L'altro svantaggio che ha è il peso, il peso è importante, con la batteria siamo a 1,6 kg e soltanto la batteria sono 350 grammi più 1200 di corpo, quindi è parecchio impegnativa. Oltre a questo appunto come abbiamo detto lo schermo è piccolissimo, scarsamente luminoso, pochissimo contrasto, quindi non si riesce a capire la foto come è venuta, inoltre il CCD non permette il live view e quindi non permette il video. però se si usa soltanto per scattare fornisce una tridimensionalità e un contrasto molto interessante anche perché a differenza del CMOS ha meno gamma dinamica, il CMOS è fortissimo a riuscire a rappresentare tantissima gamma cromatica e dinamica avendo tante informazioni anche nelle medie luci, quindi tra passaggio tra forte luce e forte buio, invece questa qui no ed è secondo me la sua peculiarità, è quello che mi ha convinto a comprarla e che la rende così caratteristica, perché appunto sui contrasti forti ha poche informazioni in mezzo, quindi ha dei contrasti molto duri, molto taglienti, molto coinvolgenti e divertenti da usare e anche i colori sono molto più simili alla resa della pellicola rispetto alla resa del digitale, quindi chi apprezza, chi ama i colori, la tridimensionalità della pellicola con questa macchina si trova molto bene, perché ha i vantaggi della qualità della pellicola uniti ai vantaggi del digitale, di non dover sviluppare, cambiare il rullino eccetera, ma avere tutto nella scheda. Grazie per aver visto questo video, un saluto da The Italian Maker.